E benvenuti in questo nuovo episodio di Call of Duty Monoport 3, buona visione! Cosa posso fare per te? Coordinate. Secondo il nostro russo, Makarov conservava le armi in un castello vicino a Praga. Non ha saputo dire altro. È affidabile. Che scelta ho. Hai i suoi motivi per volere Makarov morto. Conosci questo posto? Sì. Ai tempi di Sachert avevamo inviato dei droni in un castello sospetto. Ma non c'è mai stata conferma di versagli in zona. Con chi ho a che fare? Quel posto è una fortezza. Si entra e si esce da un punto solo. A meno che non sappiate volare. L'ufficio della sicurezza è dall'altro lato del complesso. Mentre il centro di comando è più a nord. Sono entrambi sorvegliati. Se Makarov è lì, sarà nella sala comandi. Che cosa mi hai mandato? La lista della spesa. È un sacco di roba, John. Che cosa hai in mente? Quello che mi hai insegnato. Eliminarli. Si vola sulle ali dell'avventura. Si vola. Arrivati. Vai al passo, ti lascio indietro. Sì, sì. Massimo di ultima fin indietro. E su davanti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. La prossima volta lasciami ti uccidano. Aspetta. C'è il suo vento? Sì, sì. Sì, sì. Ecco fatto. Sì, sì. Andiamo. Sì. Mi faccio solo andare. Sì. Sì, sì. 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 Mi sa tanto che questa parte la faccio esplodere. Che bello. Sì. 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 e cavolo questo quello lì mi ha visto vabbè quando si va avanti c'è il rischio di essere beccati e poi va qui c'è va che bello buoni 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 e se qua meglio evitare io voglio avere cinquattro a fermi ecco appunto ho aggiunto cinquattro da mettere qui e lo metto che cazolita piano poi ti nel culo ti sparo ora vai vai a posta muoviamoci vai 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 ecco l'ufficio della sicurezza ci penso io per colpo qualche qualche ehm no niente documenti dobbiamo solo bussare ma che oggi vi avrei bisognare per fare un casino eh tutto ma forse vi dirò più avanti ok un po' 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 va va bene poi è anche meglio un po' 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 ehm Ah, fantastico, siamo di nuovo fuori, che trovate, oh cavolo, piano, ecco. Non vedo l'ora che qui si parla di tutto, questo spettacolo. Ma qui è tutto il deserto. Oh, molto meglio, invece è più dentro e fuori. Aspetta. Cambio di piano. Il centro di comando è sovrappato. Forse niente. Forse non dovremmo farci strada sparata. Fatto la raccoglierà l'esplosione. Aspetta l'esplosione. Bellissimo, fate esplodere il muro. Tu, 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 dai. E' si fa adesso? Guarda, ti piace. Forza. Ok, ti seguo. Fatto Spider-Man. Si spera che l'olino non si rompa. Le gre... Le gre... Le greve erano tubi. Per l'ultima volta non cederò mai ai ricatti dei terroristi. Morirò piuttosto che a rivelare i codici di lancio dei missili. Non la carola. Capisco. Ecco con chi abbiamo a che fare. Un vecchio testato, un rudere che non riesce a stare al basso con i tempi. Signore... Ma anche tu... Cambierai. Qua laggiù e scopri che succede. Alexi, confermi le informazioni. Si signore, i nostri uomini sono in marcia verso il rino. Hai sentito? La ragazza è lì. Entro poche ore sarai in mano nostra. Tenetemi aggiornato. Ora andiamo. Soprisa. Che distesa rapida. Fuoco. E uno ha preso anche fuoco. Ecco ti aiuto la moglie. E uno ha preso anche fuoco. No, grazie. Non ho fame. La ragazza è verrino, Nicolai. I mobili di Marcos sono in marcia. No. E minacciano una ragazza. Borgeschi ci dà. No. Capitano Cris. Non ti debiterò. No. 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 Ition. No. 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 A torso è fuoco Ho un piacere. Ho usato un documento in foglio. Poi lo andavo a vedere. E vai! Ti è anche un documento. E vai! Di qua, fuori dietro! Seguimi! Ma quando dovrei partare? Ti partava solo questa. Non è un mix a datore. Poi spodere un po' il camion. Grazie per la grata! metà un filiblo quando sono venuto le scale non si sono mai ah, fila penso si toccava un carammato vai ecco lo che cade che bel volo ok, eronimo dapparlo dappendo questo riparo 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 questo fa fare bisogno come dire alla macchina questo è più simbrico e vai guida che io sparo e sfondiamo il cancello oh, cavolo meno male che non è paracadute volare oh 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 e questo è un nuovo episodio e questo episodio finisce qui quindi alla prossima ciao siamo quasi alla fine bene ciao ciao